buonasera a tutte buonasera a tutti bentornati con gli appuntamenti degli aperitivi antropologici oggi abbiamo un ospite, un amico molto interessante. Oggi volevamo parlare di un tuo libro molto bello che finalmente è uscito, anzi ormai già da qualche mese è uscito in Italia, che è proprio Napoli Sepolta un libro che abbiamo pubblicato con Meltemi nella Biblioteca Antropologia un libro che a me è arrivato nelle mani grazie al nostro comune amico Stefano De Matteis a cui comunque devo molto perché se no ammetto che non lo avrei scoperto e credo che è uno dei libri veramente più importanti che abbiamo pubblicato nella collana non lo dico tanto per dire, è un libro ricco di etnografia, ricco di restituzione con alti livelli letterari dal mio punto di vista, quindi con una riflessione su come scrivere quello che si raccoglie sul campo che non è una cosa da poco e che purtroppo non fanno tutti gli antropologi e le antropologhe e vorrei partire proprio da questo, cioè dall'etnografia poi sveleremo i contenuti del libro Napoli Sepolta, viaggio nei riti di fondazione di una città ma prima di tutto io ti vorrei dire come hai fatto etnografia chi mi segue, chi ascolta questi video non sempre ha una professione da antropologa o da antropologo però comunque è già dentro il discorso etnografico a me interesserebbe molto capire se hai lavorato da un punto di vista quantitativo, qualitativo come ti sei immerso nel campo in un mondo così difficile dove probabilmente ti sei anche dovuto incontrare con appartenenti a quella che viene chiamata e che è la malavita organizzati nel mio piccolo ho lavorato nel mondo della criminalità ma ho sempre lavorato con i micro criminali e con persone che non erano in realtà dentro quello che era il mondo di una mafia organizzata tu come ti sei comportato, come hai fatto a farti accettare soprattutto? guarda, prima di andare a Napoli ne avevo certamente una conoscenza letteraria sapevo poco della città, sapevo piuttosto qual è stata la città io ho cominciato così che avevo una domanda molto precisa che mi interessava all'inizio ed è quella se alcuni riti di cui forse parliamo più in avanti esistessero ancora poi mi sono trovato in un quartiere, sono andato in un quartiere storico a cercare semplicemente casa e questo quasi era il punto di partenza cercare casa cioè mi sono trovato una casa, una casa molto semplice poi anche un basso mi sono trovato un po' avvicinato e da lì ho partito importante era sicuramente che quello che nel libro forse può apparire un po' diciamo come una cosa premeditata in realtà coinvolgeva lunghi tempi di attesa come anche fare etnografia e soprattutto aspettare e soprattutto aspettare e vivere i tempi che possono apparire nel momento stesso anche vuoti, cioè dove non succede proprio niente a Napoli forse un po' a differenza di altri contesti etnografici non ho messo tanto tempo per entrare in contatto con certe persone cioè era sempre delle persone era possibile anche perché subito mi attribuivano un ruolo o in qualche modo cercano di inglobarmi perché come straniero che arriva là forse è anche un po' interessante ma è anche una risorsa una risorsa per alcune attività o per alcune domande che hanno loro una risorsa per le cose che vogliono o devono vendere ma anche una risorsa nel caso mio perché io ero straniero provenivo dal nord, provenivo dalla Germania e io mi ricordo bene che già i primi i miei vicini di casa c'era una signora che aveva avuto un marito che aveva lavorato in Germania e che lei riceveva ancora lettere per la pensione e non conoscendo la lingua aveva bisogno di qualcuno che tradusse queste lettere l'ho fatto la prima cosa importante era trovare un ruolo essere qualcuno per gli altri dare la possibilità che loro possano agire con te forse questo è più semplice per un non italiano un contesto italiano perché i ruoli che ti possono attribuire sono più lari sono più varie sono un po' più incontrollati e un altro ruolo che mi fu attribuito è quello del missionario tedesco ho visto che è un libro che io durante il mio percorso etnografico mi interessavo molto dei riti religiosi mi incontravo anche soprattutto con persone che facevano parte di un'associazione o di qualche devozione e loro spesso erano persone che o non leggevano o erano proprio in lettera analfabeti ma per cause strutturali e anche loro mi dovevano attribuire un ruolo quasi con il ruolo del ricercatore universitario questo diceva ben poco ma il ruolo di uno ma una persona che segue perché vuole sapere in continuazione qualcosa su quello che fanno loro chiaramente o che parlava un po' sulle loro concezioni di vita loro pensavano come un missionario che conosciamo anche ma un missionario un po' diverso cioè un missionario che può avere anche una vita sentimentale comunque forse sono diversi questi missionari notici allora questo era anche un ruolo che poi ho capito che mi proteggeva in questo ambito cioè che mi dava un po' mi potevano prendere per uno interessato colto ma anche un po' scemo cioè uno che non sapeva certe cose certi conflitti soprattutto uno che non entrava non si interessava delle attività illecite cioè loro ne potevano parlare liberamente davanti a me perché a me era quasi una cosa strana non mi potevano vedere come un concorrente o come un poliziotto o qualcosa del genere e questo era anche un vantaggio per l'etnografia cioè quello che voglio dire l'importanza principale è dare una possibilità di avere un ruolo ma questo ruolo anche all'etnografo l'etnografo viene anche condizionato un po' secondo le proiezioni degli altri ed è anche un processo di crescita anche un processo quasi iniziatico che là può cominciare cioè anche io ho imparato molto di me stesso mettendomi a controllo che seguivo poi c'è un secondo punto io ho fatto ricerca sul campo nel modo tradizionale dell'antropologia sociale cioè nel modo dell'osservazione partecipante mi sono chiesto chiaramente c'è la possibilità di agire di fare domande alle persone l'ho fatto anche un po' all'inizio ma le domande di solito non portano non portano a grandi risultati anche perché raramente le persone sono molto con... sanno bene quello che vogliono è anche vero per noi stessi non solo per le persone che studiamo e cioè è più importante seguire la vita quotidiana e avere un ruolo nella vita quotidiana e delle persone che vogliamo studiare anche se all'inizio chiaramente mi sono preparato nel modo che sono andato a studiare un po' diciamo le statistiche su questi quartieri ho studiato la letteratura cioè un punto importante era quasi leggere quasi tutto quello che mi capitava però poi era più importante seguire la vita quotidiana o la vita devozionale perché alla fine questa etnografia è fatta quasi di tre a tre filloni in qualche modo cioè il primo quella della vita quotidiana in un quartiere tipo la sanità a Napoli che è quasi che ho vissuto giorno per il dopogiorno per quattordici mesi il secondo è quello di una certa devozione per l'anime del purgatorio in un quartiere un po' fuori dal centro storico cioè a Secondiliano e questa devozione in relazione a una a una veggente un po' fuori dalla città ed in questa era un altro era un campo molto importante ma là andavo quasi due volte la settimana avevo i miei incontri diciamo fissi come anche gli altri che seguivano questa devozione e poi c'è anche un altro eh esatto e poi c'è anche un altro un altro campo o un'altra zona di questa devozione che si trovava eh all'inizio del centro stoico eh a San Pietro ad Aram e là andavo anche due volte la settimana questi tre campi erano interconnesse ma non tanto interconnesse per contatti diretti ma per le tematiche che si svolgevano là e là ed era anche significante che ogni quasi ogni distritto ogni campo ehm si vedeva o si si progettava come un'isola aveva l'idea di se stesso come se fosse un'isola come se fosse l'unico posto dove si svolgeva questa devozione ma in realtà non era così in realtà anche loro tramite racconti sapevano di un mondo o di un di 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 posti simili di eh o di 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 siti simili di questi di questo culto che che c'erano che esistevano in città ed è questa era anche una 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 alla fine ehm un aspetto fondamentale per l'analisi per l'analisi non tanto del culto ma anche di della vita cultuale rituale della città stessa cioè di arrivare al discorso del culto scusa se insisto però sono proprio interessato anche personalmente alla questione del metodo no? perché secondo me i mezzi che si utilizzano durante la ricerca devono andare comunque di pari passo con l'etica e le finalità del ricercatore della ricercatrice nel mio caso ricercatore ehm e visto che insomma il libro mi ha appassionato molto ammetto che io poi non leggendo il tedesco ho letto la versione tradotta in italiano eh e veramente mi ha colpito cioè la densità delle informazioni che tu riesci a portare in questo libro io sono tanti anni non tantissimi tu sicuramente da più tempo di me però sono più di dieci anni che lavoro in senso etnografico e nella restituzione etnografica e in questo test ho trovato veramente tanto e quindi mi chiedevo ma tu hai utilizzato microfoni macchine fotografiche eh o cose di questo tipo perché la il mio dubbio che mi viene leggendo il tuo libro è proprio quello della difficoltà di un campo come questo nella eh possibilità di ehm come si può dire registrare archiviare perché c'è un po' la paura anche no? di almeno a me è capitato quando ho lavorato poi in situazioni molto diverse dalle tue con spacciatori piccoli ladri cioè che il microfono era chiaramente qualcosa che subito li riconduceva come dicevi anche tu prima l'avevi già accennato a ma che sei un poliziotto? Ma perché vuoi registrare? Quindi loro ti avevano dato una figura che era quella abbiamo detto un po' scherzosamente ma anche realmente del missionario nordico tedesco che può avere relazioni però quindi tu come facevi a raccogliere il materiale sul campo? Cioè 14 mesi non sono pochi non è che puoi ricordarti tu poi Il primo il primo strumento più importante chiaramente è il diario etnografico nel senso che io dopo un momento per me ogni importante etnograficamente importante per la ricerca scrivevo un diario che avevo in cui descrivevo la situazione quello che mi fu riportato quello che ho visto ma anche diciamo alcune considerazioni strutturali poi la sera quando andavo prima di andare a letto avevo un altro diario e questo diario mi portava altre cose soprattutto la scrivevo quello che avevo proprio sentito come mi sono come mi sono visto io in relazione agli altri ma anche a me stesso a questo campo cioè allora esisteva un diario scientifico e un diario più personale e questi due diari alla fine hanno fatto quasi il fondo per me più importante perché li ho trasformati in un testo in un diario che alla fine devo dire il libro quello che ho utilizzato per questo libro è solo una parte di quello delle notizie o dei diari che ho fatto forse sono 800 pagine molto dense del diario potrei fare un altro libro sulla stessa sul stesso periodo però ho cercato ho scelto uno quasi anche una struttura che in qualche modo per me diventava evidente dopo ristudiare il materiale raccolto e poi devo dire questa è quasi la cosa fondamentale ed è questo forse un po' un metodo all'antico che avevo imparato dal mio caro dal mio caro maestro Thomas Auschwitz che è un noto antropologo tedesco che ha fatto tanto tante ricerche sul capo in Italia soprattutto in Basilicata e anche da Fritz Kramer che per me è uno dei più grandi etnografi che ho avuto la fortuna di conoscere e loro e assieme anche da Johannes Fabian quasi e questo è un po' il cecchio in Germania oltretutto di Fabian abbiamo appena pubblicato il libro proprio nella stessa collana del tuo quindi vi trovate ancora nella stessa collana quindi molto bella questa cosa questo libro tuo è un classico assoluto no e poi c'è un secondo piano che è quasi che riguarda l'utilizzo di strumenti audiovisuali ho utilizzato ogni tanto il microfono soprattutto quando c'erano incontri quasi ufficiali quando lo potevo fare però devo dire che alla fine anche per scrivere il libro questi incontri ufficiali erano meno interessanti ad esempio ti do un esempio mi sono incontrato varie volte con Luigi De Magistris il sindaco di Napoli l'ho registrato alla fine alla fine erano quelle che erano meno interessanti allora nel libro quasi non si trovano beh direbbe quello era il verbale ufficiale no cioè quello era la cosa che si deve dire per un rappresentante istituzionale quindi per il libro che stavi scrivendo per la ricerca che portavi avanti in effetti non aveva grande interesse quel che è interessante invece è la differenza tra quello che sta nel diario che io ricordo veramente della situazione e il verbale diciamo ufficiale e questa differenza ogni tanto diventa anche interessante e diventa importante per il libro ad esempio quando si tratta di incontri con persone della chiesa diciamo con rappresentanti della chiesa del vescovo tutto ciò poi un terzo una terza poi una un altro strumento audiovisuale che però è diventato cruciale è la fotografia anche nel libro ci sono varie fotografie che non sono da me di me ma sono una fotografa tedesca Anja Dreschke che è anche un filmmaker che ha fatto alcuni film tipo un film sui tribù di Colonia e che è venuta varie volte a trovarmi nel mio campo e abbiamo fatto soprattutto abbiamo fatto quasi dei giri per Napoli per rincontrare persone che io avevo incontrato sul campo e siamo andati in certi luoghi abbiamo chiesto a loro dove ci volete portare e quasi per fare un po' un progetto audiovisuale condiviso e questo era anche importante cioè ci sono tante ore di ripresa di ripresa dei ritmi e poi anche tante fotografie e da queste fotografie anche rivedendoli ho imparato di nuovo e mi ha aiutato molto a scrivere il libro devo dire perché non solo per l'atmosfera ma anche per la fisicità per vedere diciamo che che tipo di corpo che tipo di corpo ci sono che corpi sono presenti che tipo di spazio come stanno nello spazio come riempiono lo spazio alla fine questo mi ha aiutato molto allora devo anche dire come ha detto una volta come l'ha scritto anche Michael Townsend una volta in uno dei suoi ultimi libri I swear I saw this penso che sia del 2013 a lui ha sempre tratto molto fare disegni disegnare disegnare le situazioni io non sono molto abile da disegnatore ma ogni tanto utilizzando queste fotografie che Ania mi mandava per riorientarmi nel mio capo la questione del disegno per me è molto sai che io invece non sono un bravo disegnatore neanch'io però lavoro molto con il disegno ho cercato proprio di ragionare su come il disegno possa fare un qualcosa a livello etnografico di polifonico non invasivo sul campo è molto interessante Taussig è sicuramente uno degli autori più interessanti degli ultimi anni anche io credo che sia il 2013 oltretutto il periodo in cui lui ha pubblicato anche proprio i suoi sketchbook del campo in Italia purtroppo sono inediti però è molto interessante adesso vorrei portarti sul cuore del libro anche perché io già solo per come tu hai raccontato il tuo lavoro di campo comprerei subito il libro poi ho la fortuna di averla già anzi due tre copie quindi non lo devo fare però già solo per il metodo che per me come si lavora è fondamentale quando si legge un libro di antropologia è importante che sia ben scritto è importante che la storia che viene raccontata sia interessante per il lettore che lo prende però è anche vero che non è soltanto letteratura che va benissimo e uno può leggere solo letteratura nella sua vita ma quando è antropologia sapere come è stata raccolta beh per me è fondamentale non vale tutto secondo me il tuo metodo è vero che tu dici è classico ma non è però l'osservazione partecipante malinoschiana che poi sappiamo con la pubblicazione dei suoi diari segreti della moglie che poi in realtà lui questa osservazione partecipante non la faceva veramente secondo me il suo approccio è un approccio molto contemporaneo non egemonico cioè di immersione proprio sul campo però andando invece al cuore anche per regalare un po' di spoiler come si dice oggi a chi si deve prendere il libro ancora che guarda il video quali sono i rituali di fondazione cioè di che cosa parli perché Napoli sepolta e poi mi piacerebbe anche arrivare a parlare di questa di queste immagini molto molto dark no che ci so che già vabbè la copertina è anche un po' furba lo so nel senso che è bella e si vede questo teschio no in in primo piano però non è decontestualizzante ne abbiamo parlato no non è decontestualizzante quindi se ci vuoi dire che cosa sono questi riti che fondano una città e perché hai deciso di lavorare su questi riti allora quello che devo aggiungere una cosa o devo fare una premessa quello che mi ha colpito di Napoli sin dall'inizio è il fatto che è una città vulnerabile ma una città che si basa non sull'idea di se stessa come forte o come diciamo come stabile quasi non fa questa ideologia ma si basa proprio sulla sua vulnerabilità e questo è molto e sulla sua fragilità e questo è forse il punto di partenza perché quel che mi interessava era trovare una ritua trovare riti trovare o metodi diciamo quello che fa la cultura e vedere in quanto questi riti davano alle persone tutti gli abitanti della città la possibilità di quasi di formare i loro legami e la loro materia prima diciamo anche così all'inizio della vita prima di fare qualcosa prima di avere potere di esercitare potere su qualcuno prima ancora di diciamo di utilizzare la vita di un altro prima ci deve essere questa vita come forma prima deve essere la vita che viene utilizzata allora noi diciamo che di solito la vita comincia con una persona che viene concepita che nasce che poi fa parte di una famiglia e questo spesso prendiamo come diciamo la situazione naturale la persona che nasce ha anche un legame di parentela con altri e anche questo vediamo come naturale e poi viene tutto quello che è la cultura la scolarizzazione la formazione è quello che diventa uno la politica ma in realtà e noi ci rendiamo spesso conto guardando bene a una realtà cieco scritta anche la parentela è cultura la parentela non procede diciamo la cultura ma fa parte della cultura in quanto la cultura è l'autoinvenzione quasi dell'uomo l'uomo non può fare altro che cultura e a Napoli che è una città fragile significava anche che questi rapporti più importanti preliminari tipo la parentela erano e sono storicamente rapporti fragili e quel che si vede nei riti di fondazione è che quello da cui nasce la parentela il tessuto di parentela fa parte con la con la nascita della della città o con l'emergere della città come logo sociale e logo storico stesso e questi sono quasi riti di fondazione su cui si fondano si fonda sia la città sia la persona diciamo nella nella sua individualità nella sua nei suoi legami nella sua possibilità di avere legami e uno dei culti più importanti in questo per me era il culto dei morti delle anime quasi che poi è diventato il culto delle anime e tre centelle e un altro era il culto della Madonna dell'arco il culto dell'anime del purgatorio è un culto che si concentra soprattutto che si dedica all'interazione con i rappresentanti dei difunti e questi rappresentanti sono quasi il teschio il teschio è il rappresentante più forte e Napoli è una città che sovrabbonda di questi teschi o anche di materiale di difunti per cause biologiche ma anche per cause storiche per le epidemie per le pandemie che hanno attraversato questa città e che hanno reso anche anonimi questi difunti c'è un vasto numero di resti umani che non sono identificabili che sono enormi e questa è già una situazione spaventosa per ogni comunità perché avere quasi resti come sappiamo bene diciamo sia da Fraser fino a Freud avere quasi i morti non identificabili significa anche per fare i conti con i morti non pacificati che ritornano che ci spaventano allora devono essere culturalizzati devono essere identificati e questo succede è un passo che succede tramite il culto dei morti il culto dei morti però che a Napoli si basa soprattutto sull'immaginazione sull'immaginario cioè dare una storia a un morto dare una storia a un defunto individuarlo e questo succede tramite l'immaginario che colpisce le persone entrate in contatto con questi teschi durante la notte durante il sogno o anche tramite la tradizione e poi si installa si inaugura un rapporto tra quasi questa persona è il devoto e il teschio un rapporto che può perdurare tutta la vita uno suegno un teschio a cui dà una identità e questa identità e questo rapporto procede di giorno di notte questo rapporto è quasi come parlare con quasi lo rende il morto quasi un avo un avo ma un avo un po' idealizzato perché è l'unico avo con cui uno può intraprendere un rapporto reciproco e questo è anche importante cioè quello che faccio per questo avo cioè per questo teschio occupandomi di lui quasi dando il rifresco come si dice a Napoli dicendo delle preghiere nell'Ave Maria ma anche diciamo corrando un po' al posto dove sta mettendolo su un cucchino in una teca è una presenza comunque per chi non è una presenza sì sì è una reale presenza il teso è una reale presenza io posso ricevere anche un dono il dono non è un grande dono tipo che trovo un tesoro in casa ma un dono di tipo che mi fa un aiuto nella mia quotidianità che trovo i documenti che prima avevo perso che uno si sogna dove sta qualcosa che si è perso che uno si sogna un modo di risolvere un problema e questo questo colloquio continuo e reciproco fa sì che anche che quel defunto diventa quasi una specie di un parente ideale perché come spesso succede quando ho parlato soprattutto con persone di estrazione bassi bassi degli strati delle grassi inferiori quando ho chiesto ma voi che avete i vostri morti sul sul cimitero e in chiud questi morti anonimi com'è la differenza e loro dicevano ma guarda la differenza in qualche modo non è tanto però poi con i miei con i miei morti con i miei zii con i miei genitori ho litigato cioè anche ho un legame che è dovuto non è sempre puro con quello almeno diciamo con quello con quello testo con quell'altro ho un legame che lui mi risponde non ho litigato con lui cioè è una idealizzazione diventa una idealizzazione ma soprattutto diventa anche uno strumento per misurare per quanto vanno bene o non vanno bene i rapporti con altri esseri umani o con con la parentela con con i parenti e serve anche come una critica cioè ha anche un aspetto critico sia per la parentela sia anche per il sistema clientelare perché anche il clientelismo è quasi un un rapporto di parentela finto come fai con il padrigno però anche lì il rapporto con i teschi è un rapporto che può criticare questo questo modello o la realtà e così è anche ha anche un ruolo per quanto riguarda diciamo la vita per regolarizzare e per permettere sempre per dare un'idea dell'equilibrio in una società che spesso non è equilibrata e che si deve basare su rapporti di parentela ma anche su rapporti soprattutto clientelari come sappiamo bene questo non vale solo per Napoli ma a Napoli è molto palpabile soprattutto perché è un contesto molto densificato cioè tanti fenomeni che puoi studiare nel Mediterraneo a Napoli di poi vedere un po' meglio perché sono tutti sono tutti presenti quasi come su un unico parco scenico un campo perfetto per un antropologo diciamo da questo punto di vista sì sì e poi poi c'era un altro l'altro culto che era un altro rito che per me ha fatto un po' ha svolto un po' una relazione complementare che è quello della Madonna dell'acqua è anche un rito che ha a che fare con i morti ma più con i morti della famiglia ed è anche un rito e soprattutto una devozione a una Madonna o un'immagine della Madonna che è poco cristiana cioè che è poco Madonna nel senso tradizionale la Madonna dell'acqua è una puoi dire forse una proviene da una divinità ctonica una divinità che è vendicativa che è anche un po' arbitraria che richiede la sottomissione totale dei suoi devoti è una Madonna che sta al di fuori di Napoli cioè in una zona dei paesi dei paesi resuviani che ha anche un carattere quasi vulcanico e questa Madonna è molto presente quasi almeno le rappresentazioni di questa Madonna sono molto presenti a Napoli stessa ci sono delle associazioni che si formano in ogni quartiere ci sono 5-6-7 associazioni di questo tipo ogni associazione ha una piccola cappella là si trova un'immagine di questa Madonna che è quasi una copia di quello che si trova al di fuori di Napoli in un santuario di Santa Anastasia e queste persone quasi richiedono o esprimono la devozione la sottomissione a questa Madonna e questa Madonna naturalmente fa dei miracoli ma i miracoli quando si vede molto quando si vede più in dettaglio i miracoli sono soprattutto miracoli di fondazione delle famiglie che sono miracoli che inaugurano e stabiliscono i rapporti che esistono tra la persona singola la sua famiglia e il luogo dove abitano cioè il luogo il territorio e questo è soprattutto importante per le classi meno ambienti soprattutto è importante per chi fa parte del cosiddetto sottoproletariato perché la forza la forza di loro è la parentela è più la parentela radicata cioè che non possono essere espulsi quasi sono classiche è come se fosse un collante sociale che crea delle reti proprio e che regge anche contro tentativi di gentrificazione fino ad oggi cioè Napoli è una città che non è gentrificabile soprattutto confrontata ad altre città europee quasi a Napoli al centro storico non è gentrificabile ma anche non è gentrificabile la città insomma io non vivo in città ma la città vicino a casa mia è Genova e Genova da questo punto di vista ha delle similitudini interessanti non dal punto di vista del rito di fondazione ma dal punto di vista che il centro storico è uno dei pochi d'Europa che in effetti ci sono delle prove cercano di gentrificarlo e di svuotarlo da quello che sono le classi appunto meno ambienti cioè diciamo che le città ormai il centro storico delle città quasi in tutta Europa è legato o alle classi più alte alle persone più benestranti o ai negozi e quindi la notte sono vuoti a quelle che sono le comp le sedi delle banche le company e cose varie comunque io ti ringrazio tantissimo perché ripeto questo libro di Urlich Van Loyen senza il DER è un libro fondamentale e io credo che è veramente uno sguardo su Napoli estremamente interessante e dipinto cioè io non so leggendo questo testo è come se avessi visto anche l'opera di un pittore cioè secondo me tu sei stato proprio hai creato degli affreschi letterari e non soltanto etnografici quindi io sono rimasto veramente entusiasta di questo testo ma prima di salutarci anche se insomma è già un bel po' che parliamo lanciamo l'ultima l'ultima piccola perla che è quello che bolle in pentola so che stai uscendo in Germania purtroppo ancora non in Italia ma io spero di poterlo pubblicare sempre come il temi vedremo se ce la faremo un libro nuovo che anche questo è particolare e soprattutto ha come focus l'Italia è un libro sulla letteratura della mafia ma non tanto sulla letteratura sulla mafia ma più sulla letteratura prodotta dalla mafia un'autorappresentazione un'autorappresentazione ma anche le autobiografie dei boss dopo che loro sono diventati pentiti hanno assunto altre altre identità o come Raffaele Cutolo che per 50 anni scriveva o mandava dal carcere le sue poesie quel che mi interessava proprio era la nozione o l'idea che le tre mafie più importanti italiane sono quasi all'inizio erano più come circoli letterari questo vale per la per la mafia napoletana parlamentare che si basa sui beati Paoli a cui Roberto Eico ha dedicato un bellissimo saggio vale per l'andrangheta e per la procreazione di questa di questo mondo per la melange che esiste tra questo mondo contadino e la tradizione della massomeria liberale torinese e vale anche soprattutto per Napoli e per la per la storia della Camorra poi ho visto un po' quasi come queste tre mafie utilizzano i modelli letterari per la loro autolegidimazione anche per rappresentarsi come gruppi folcloristici sempre davanti alla giudice cioè l'argomento è che noi facciamo solo come se facessimo un reenactment di una letteratura preesistente però mi interessava anche da un altro punto di vista nel punto di vista che forse la mafia stessa con con le le mafie con le loro tecniche sociali rappresentano anche un nucleo fondano un nucleo rappresentano diciamo come un riservo una riserva per la letteratura o il concetto della letteratura stessa il concetto della letteratura che è questo della sovrabbondanza del significante la diciamo anche la la polifonia la anche il sì e questo questa era quasi la base o all'inizio e poi questo è un piccolo libro che si basa soprattutto un po' anche sulla ricerca sul campo svolta a a Polsi San Luca durante alcuni anni a Napoli naturalmente c'è molto quello che non ho potuto scrivere in questo libro poi è confluito in quell'altro e a Corleone cioè la storia dei Provenzano e la storia anche dei Fili di Totorina beh insomma anche questo è un altro libro che mi incuriosisce tantissimo veramente non vedo l'ora di di leggerlo in realtà quando sarà tradotto perché come dicevo prima purtroppo non leggo il tedesco per ora però invitiamo tutti quelli che ci ascoltano a prendersi il tuo libro invece che trovano in libreria consigliamo credo che tu sarai d'accordo di andare in libreria se potete insomma se non avete problemi a uscire è meglio se andate a supportare delle librerie perché così comprando il libro oltre a supportare la casa editrice è minimamente l'autore perché noi autori siano quelli che ci guadagnano di meno dai libri però è importante che ci siano questi presidi culturali che resistano in vita e aperti in tutto il paese quindi andate a cercarvi Napoli Sepolta se non c'è fatevelo ordinare e grazie a Urlik Van Loyen per tutto il tempo che ci hai dedicato io ringrazio tanto io ringrazio tanto a te ringrazio tanto a te Andrea e anche tutto il gruppo tutti i tuoi collaboratori di Mertemi per il meraviglioso lavoro che avete fatto per far possibile la traduzione di questo libro in Italia e sì ma ti auguro anche un po' possibilmente dei tuoi studi etnografici Andrea anche sono molto curioso a leggere il tuo prossimo libro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti